ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio castro miniatures vlog tv oggi inizieremo i nostri tutorial per dipingere le miniature di warcry e vi farò vedere come dipingere gli iron golem eccoci qua allora ragazzi la prima cosa da fare è decidere che tipo di base volete utilizzare sul vostro sulla vostra miniatura quindi che tipo di primer spruzzerete se nero se bianco se color osso se grigio chiaro grigio scuro ovviamente la base determinerà la brillantezza del colore o la profondità del colore e quindi altrettanto della miniatura io ho scelto per iron golem come vedete la base nera in questo caso ho usato come avete visto magari forse nel trailer il caos black della games workshop è un primer eccezionale nulla da dire non è l'unico in commercio potete per esempio prendere quelli di army painter che vanno benissimo effettivamente e anzi forse sono anche un leggermente più opachi mentre quelli della games workshop attualmente sono leggermente più satinati comunque al di là di questo che è un discorso di scelte soprattutto personali perché a seconda di come vi troverete la cosa importante è scegliere la base la base in questo caso mi serve nera perché voglio andare a farvi vedere come fare un effetto ruggine e quindi andrò a utilizzare la tecnica soprattutto del dry brush cioè del pennello asciutto che è una tecnica ultimamente un po più sottovalutata in realtà probabilmente la più difficile da padroneggiare a livelli alti ad alti livelli perché sembra molto semplice in realtà si possono tirare fuori degli effetti eccezionali basta aver pazienza cioè avere la pazienza di sovra sovrapporre colore su colore senza fare si due colori e ciao capito per capirci allora io vi sono fatto una linea di colori allora ho preso uno scale color 75 black metal ok allora tutto quello che vi dirò sappiate piccola premessa oggi sarà un po un video di premesse in tutorial di premesse perché il primo che faccio con le miniature quindi ci tengo a farvi capire un paio di cose la cosa più importante è che non ho sponsor in questo momento che mi chiedono di pubblicizzare qualcosa quindi tutto quello che vi dico è per voi fine o soprattutto è quello che faccio io poi voi potete scegliere scale color 75 io lo uso come black metal perché ha un'ottima pigmentazione e funziona molto bene come secondo passaggio utilizzerò un plate mail metal che quindi sostanzialmente è la cotta di maglia cosiddetta no della army painter che ha un'ottima pigmentazione per questo colore fate molta attenzione che non solo ci vuole la sferetta di metallo comprata a parte all'interno che vi permette di scuotere meglio il colore io adesso lo scosse tutto in precedenza ma qui in questo caso la cosa migliore è avere uno shaker io ho preso un nail lique shaker che sarebbero i classici shaker per le i colori per le unghie delle donne ok quindi atti in questi negozi che vende colori per le unghie e chiedete un nail lique shaker è uno shaker che fa questo suono bellissimo e praticamente vi mescola velocissimo il colore con la sfera di metallo dentro avete il massimo della pigmentazione perché per esempio in army painter che sono dei colori eccezionali specialmente per il loro prezzo che si gira intorno ai 2 euro e 70 contro i 350 i 6 e 60 della games workshop per esempio hanno appunto ovviamente sapete che alla fine nonostante la marca si paga per quel che sia gli army painter mi piacciono per delle pigmentazioni che sono presenti identiche a quelle della games workshop perché il primo dei proprietari lavorava in gv prima molto simili se non identiche a quelle che c'erano negli anni 90 e a me piacciono moltissimo detto questo vanno mescolati benissimo e si vuole lo shaker l'ho provato in tutti i modi ma ogni giorno farò un video per farvelo vedere ma ce ne sono in giro di colleghi inglesi in questo caso che fanno vedere come mai la pigmentazione e il pigmento sostanzialmente e il legante purtroppo tendono a scomporsi a diciamo separarsi e difficilmente trono insieme quindi ci vuole lo shaker terzo colore il typhus corrosion della games workshop che è il colore più eccezionale che abbia mai trovato a livello tecnico per imitare diciamo la corrosione del metallo dry rust che è un effect quindi un technical uguale a quelli della games workshop però dell'army painter che è molto buono per fare la ruggine perché ha dei piccoli della piccola sabbietta all'interno quindi aiuta il typhus corrosion che ne ha altrettanta e vi crea un po quell'effetto polvere che crea la ruggine allora quello che ci serve per iniziare il dry brush è un foglio di carta assorbente e un pennello per fare il dry brush in questo caso vi farò vedere con il citadel che è della games workshop ma potete trovare in commercio per esempio armi painter con i small dry brush che fa un piatto tagliato il piatto tagliato ve lo faccio vedere meglio eccolo qui praticamente da un lato viene tagliato in modo tale che vi dia ecco lo metto a fuoco vi adesso ovviamente lo sto già rovinando io ed è così che deve essere però praticamente questo taglietto vi permette di utilizzarlo in maniera diversa rispetto a quello piatto che vedete della games workshop che è questo qui eccolo qua mentre ultimamente la artist opus che è la mia marca preferita di pennelli fa tutto il martora di solito ha appena fatto il kickstarter della serie di la serie di è la serie che appunto tutto dry brush ed è eccezionale perché hanno fatto praticamente un pennello radiale ovvero a una bombatura quasi come i pennelli da trucco delle donne e vi farò vedere perché si possono fare tecniche diverse si può fare il shipping oltre che il dry brush si può fare lo stippling insomma vi farò vedere un po come funziona allora dry brush come funziona il dry brush si mette del colore direttamente sul foglio di carta assorbente si prende il pennello e si fa un continuo lavoro radiale come vedete fino a quando praticamente sul pennello rimane il pigmento non esageratamente elevato quindi quando andrò poi a operare sulla miniatura spazzolerò la miniatura in modo tale che mi venga fuori questo effetto metallico con il nero sotto vedete in poche parole in questo caso io sto con il dry brush utilizzando il pennello che è sporco praticamente del colore per evidenziare vedete evidenzi in questo caso tutte le parti che sono in rilievo e gli recessi rimangono neri in questo caso ovviamente voi andate avanti a aggiungere colore e a rifare il solito cerchietto radiale io rimango anche molto vicino all'altro in modo tale che risfrutto quello che avevo nell'altro specialmente la prima passaggio che è quello dove mi sarebbe più pigmentazione e più colore possibile come vedete quello che mi serve a me è questo effetto qua cioè che rimangano gli effetti vedete per esempio qua la cotta di maglia è fantastica viene subito l'effetto metallico vedete come di colpo vengono fuori gli anelli e rimane questo contrasto fra luce ombra diciamo del metallo e del e dell'ombra del nero che c'è sotto che è il primer direttamente allora andiamo avanti così vi faccio vedere quando ho finito di fare tutta la miniatura e vi faccio vedere secondo passaggio adesso che ho finito la miniatura come potete vedere la miniatura ha un effetto metallico molto scuro sulla base nera ok ma già praticamente qui vedete tutti quanti i rilievi evidenziati come per esempio questi tagli sulla palla che non so se riesco a farvi vedere mettendo a fuoco meglio eccolo qua vedete e nei recessi rimane il nero che quindi evidenzia ovviamente tutte le ombre adesso andiamo a fare il secondo passaggio cioè la stessa cosa che abbiamo fatto prima la facciamo con il plate mail in questo caso potete usare appunto un colore più chiaro della games workshop io non vado nemmeno pulire il pennello ok quindi vado a mescolare il vecchio colore con il nuovo tanto il vecchio è rimasto assunto a sporcare un pochino quindi primo passaggio sarà leggermente più scuro e vado a stare più leggero quindi spazzolo come prima la miniatura ma ancora più leggero ok perché voglio che rimanga un pochino del black metal sotto e che mi rimangano ancora più evidenziati tutti quanti i rilievi ok quindi ecco quello che dobbiamo fare lasciare praticamente questo effetto vedete che pian pianino inizia a sfumare in questo modo qui vado avanti e vi faccio vedere il terzo passaggio fatto anche il secondo passaggio ecco che la miniatura ha praticamente evidentemente ancora più luci di prima ok a questo punto le sfumature iniziano a evidenziarsi quindi si sono già tre passaggi di colore il nero di base il metallo scuro come diciamo primo passaggio dry brush che vi ricordo è il pennello asciutto e secondo passaggio il plate mail metal quindi un metallo diciamo era il vecchio ball gun metal anche un po più chiaro nel caso del mail chain mail si chiamava per la games workshop adesso andiamo a mettere il typhus corrosion quindi laviamo il nostro pennello ricordatevi quando lo lavate di premere sul collo tirare indietro verso di voi in modo tale che si pulisca il collo del pennello in questo modo si aprono meno i peli e il pennello dura di più specialmente nel caso dei pennelli di martola ma è ovvio che anche se il pennello dry brush è un pennello che è fatto apposta per essere rovinato è meglio comunque farlo durare il più possibile ok vi faccio vedere l'altro passaggio allora per l'altro passaggio prendo un pennello ma in realtà si può prendere un po quello che si vuole io in questo caso prendo uno shade medium che è un pennello con un grosso serbatoio ok mi prendo il mio typhus che vi ricordo va sempre scosso prima di essere utilizzato nonostante il typhus sia molto più liquido dei pigmenti normali mi prendo una dose di typhus e comincio a spargerla sulla miniatura ok andate abbastanza a caso non fatelo su tutto tutto ok perché quello che vogliamo ora è imitare l'effetto della corrosione del metallo ok dopo andremo a ripassare in certi punti per poter diciamo aumentare questo livello di effetto qui andate pure sulle spalle per esempio qui andate pure tranquilli e con una certa dose diciamo di di typhus perché ci serve ok come vedete la miniatura praticamente io la sto ricoprendo grossolanamente senza proprio ricoprire tutti i punti di typhus corrosion ok vado avanti come sempre e siamo qui quando io ho finito di passare il typhus corrosion in tutta la miniatura ecco qua finito anche il passaggio del typhus corrosion mi sono munito anche di un holder per tenere la miniatura più comodamente un giorno vi farò vedere anche una recensione per quello come potete vedere adesso abbiamo questo effetto di quasi sabbia e di corrosione per appunto del metallo che sto mangiato dalla ruggine che è molto comodo scusate non era a fuoco bene se lo vedete meglio sicuramente come vedete abbiamo questa situazione sulla miniatura un metallo che si vede leggermente al di sotto e al di sopra il typhus che fa appunto questo effetto prendiamo il nostro dry rust e ci avviciniamo a quello che è il passaggio più importante per la ruggine ovvero il colore arancione vero e proprio della ruggine ecco qui sempre con un dry brush ok che abbiamo il nostro solito effetto e andiamo a fare un dry brush con l'arancione non vi spaventate se lo vedete ora diventare diverso è normale andiamo a vedere cosa succede mettendo il colore arancione dry rust passando spazzolando proprio leggermente andate semplicemente a spazzolare la miniatura ovviamente dove volete più arancione ripasserete più volte ok mi raccomando questo passaggio qua che sia più leggero in modo tale che avete tempo di pensare a dove sovrapporre un effetto ruggine e dove invece lasciare più metallo o più corrosione del typhus ok vedete che in questo caso passo abbastanza gentilmente ok ed ecco che pian pianino la miniatura si colora di arancione finisco anche questo passaggio magari vi faccio vedere qualche sovrapposizione dell'arancione prima di staccare con questo passaggio e dopodiché andiamo a vedere che cosa succede e che effetto fa ok ecco qua che andiamo a fare il nostro effetto eccolo qui se volete più arancione ecco che andate a sovrapporre rispetto al precedente passaggio ok sempre gentili questo passaggio qua cioè non premete troppo col collo del pennello ok se volete col collo del pennello ovviamente avrete più pigmentazione fate attenzione perché dipende da quanto lo volete arrugginito ci vediamo alla fine del passaggio ho finito anche il passaggio del dry rust che ci fa vedere la miniatura ovviamente pigmentata proprio di arancione evidente proprio come la ruggine che si è mangiata prepotentemente il metallo questo sembra proprio veramente che sia stato mangiato da veramente parecchi e parecchi anni e decenni andiamo a prendere il plate metal ovvero il mail cioè quello un po più chiaro di metallo che abbiamo usato nel secondo passaggio e facciamo un ulteriore passaggio per riandare evidenziare le parti in rilievo ok allora adesso questo è un passaggio da fare veramente veramente gentilmente col pennello non andate a distruggere praticamente ed eliminare il lavoro che abbiamo appena finito di fare con il metallo quindi vado semplicemente a evidenziare leggermente come vedete le parti in evidenza dove praticamente la ruggine non si è mangiata completamente il metallo ed ecco che vi dà un effetto veramente simile alla ruggine come la vedete nella realtà giusto guardate questo questa parte qui è quella molto più utile perché vi dà come vedete questo effetto di evidenza dei rilievi proprio e aumentando le luci ci dà proprio l'idea che ci sia proprio il metallo al posto della plastica della miniatura vado avanti fino a quando vedo che c'è pigmento e effettivamente ce n'è abbastanza quindi siccome devo fare solamente di spigoli e rimane più facilmente non vado a rimettere di nuovo il colore sul pennello tento di sfruttare al massimo quello che ho già ed ecco qui per esempio guardate qui dietro la cotta di maglia ok quando io passo qua in un attimo vedete si evidenzia quindi andate a evidenziare solamente le parti in rilievo ok finisco anche questo passaggio e dopo di che ci troviamo qui mi trovi questo passaggio e nel frattempo che stavo finendo ho deciso di dare un passaggio in più di luci allora prendo un colore ancora più chiaro in questo caso proprio l'argento io uso sempre la mi painter in questo caso ma potete tranquillamente prendere il silver della games workshop prendo il mio pennello in dry brush e ancora più gentilmente che col mail vado a prendere per me per niente sono le punte della testa per esempio ecco qua solamente vado per dare dei colpi di luce veramente estremi alla miniatura ok perché evidenzia ancora di più la rotondità e quindi finisco questo ultimo passaggio di luci per dare prova appunto mi ripeto una estrema e sensazione di rotondità alla miniatura e ci ritroviamo qui alla fine del silver siamo arrivati alla fine adesso ovviamente quest'ultimo passaggio dell'argento siate molto attenti e leggeri non esagerate tantissimo ed ecco che la miniatura ci dà già un bel effetto ruggine secondo me già vicino a essere finito ma noi vogliamo evidenziare adesso i recessi quindi vado a prendere di nuovo un pennello shade e mi munisco di null oil che è per esempio il diciamo l'inchiostro il wash nero della games workshop che mi dà diciamo la possibilità di andare a evidenziare tutti quei recessi scuri io vado a prendermeli per esempio nella parte del petto adesso quindi vado qui dentro e do dei colpi di null oil solamente all'interno in modo tale che vi dia questo effetto di ombra all'interno dei recessi ecco qua vedete dove praticamente ho evidenziato più metallo perché mi interessa fare evidenziare il colore del metallo il nero si utilizza sul metallo mentre per esempio il marrone la grass che vedete là dietro poi lo userò lo potete usare invece in sulla ruggine no quindi io tenterò di mescolare i due colori per dare un po di rotondità ulteriore alla miniatura vado a prendere i passaggi in mezzo vado a prendere sotto le punte ecco qui ecco qui vado a prendere tutti i punti che dovranno sembrare più in ombra possibile qui dopo ci metterò anche parecchio a grax ecco qua adesso io finisco questo passaggio guardando bene dove mettere le ombre dove evidenziare l'ombra e ci vediamo alla fine facendo anche un passaggio di a grass air shade che è invece il marrone quindi un wash marrone scuro quindi al passaggio del a grass air shade che è praticamente un marrone molto scuro al posto del nero di prima e vado a beccare anche qui tutte le parti che mi interessa evidenziare di più e far sembrare in ombra ok qui non vi preoccupate quando seccherà tornerà essere opaco e tornerete a vedere l'effetto ruggine di prima quindi andate via tranquilli non vi preoccupate anzi più passaggi sporchi ci sono in questo caso meglio è ok quindi via dritti tranquilli sereni sopra sotto diciamo che la parte del marrone può essere quella più casuale perché come vedete va sopra la ruggine oltre che al metallo il metallo sembrerà rugginito perché avrà i riflessi marroni e la ruggine che arancione non ha niente di meglio che l'ombra marrone quindi andate via tranquilli sotto questo aspetto andate soprattutto nei recessi così che si evidenzino e possano poi sembrare più in ombra e ancora più sporchi vi ripeto per l'ennesima volta ok finisco anche questo passaggio e ci vediamo alla fine profitto mentre si sta asciugando ancora la il wash ok a fare invece la pelle per la pelle ho deciso di fare una pelle grigia diciamo sul grigio vampirico quasi e userò l'elba un flash della scale color come colore finale ecco questo è un colore molto bello della fantasy games che dopo vedrete da quasi sul blu azzurro e la stessa cosa vale per game color extra opac della valle o in questo caso che è un navy blue grey in questo caso è un grigio diciamo con delle sfumature leggermente azzurrate ok in questo caso la quel tipo di stesura del colore è quella classica quindi metto un po di colore nella palette non nel fazzoletto diciamo del dry brush che abbiamo utilizzato prima anzi guardate lo giro addirittura in modo tale che abbia più spazio bianco per poi poter lavare il pennello asciugarlo ok e vado a prendermi uso un artist opus numero uno in questo caso artist opus è quella serie di pennelli eccezionale che ha fatto la element games di cui vi farò una recensione apposta perché meritano davvero sono in martora e sono quanto di meglio si possa trovare sul mercato in questo momento a livello di pennelli per le miniature e ovviamente per avere qualcosa di simile con la games workshop dovete andare più o meno sui anzi senza più o meno sui martora della games workshop ok allora come vedete io mi vado a fare una punta e tiro il colore con il bianco e comincio stare attento che sia asciutto il resto comincio a colorare la miniatura del colore che voglio l'extropac della valleo è molto forte e molto pigmentante quindi avete questa serenità che anche tirando il colore anche su base nera come vedete rimane abbastanza coprente mi raccomando voi continuate a tirare colore con l'acqua perché è importantissimo che non venga fuori l'effetto della ruggine appunto se voi lasciate seccare il colore si arrugginisce che praticamente da questo effetto sabbia che purtroppo dal colore tirato male ok quindi tentate di tenere il più liquido possibile vado a colorare tutto il tutta la parte della pelle della miniatura e ci vediamo alla fine per capire come si è asciugato il wash e come è venuta fuori la miniatura con la base grigia ecco ma allora nel frattempo che si è asciugato il wash e quindi abbiamo questo effetto ruggine pronunciato con tanto di ombre e luci abbiamo delineato la miniatura perché ho dato i passaggi di colore praticamente grigio la base e basta vedete questo questa base qui è molto bella perché gli extropac della valleo basta un passaggio sul nero anche di colore chiaro e vi dà questo effettone guano a questo punto vado a fare le luci con questo scale 75 che corra 75 della serie fantasy game proprio loro e vado a passare praticamente sopra in stratificazione ovvero uso un altro metodo ancora non vado a dry brushare cioè quello che abbiamo fatto prima sul col per il metallo ma vado aggiungendo praticamente il colore con l'acqua liquido ok e lo vado a vede ora mescolo perché probabilmente ha ancora bisogno di essere rimescolato a questo punto siccome ho premete nove ma va anche abbastanza bene vedete questo colore è quasi verdastro è un po particolare tra il necrotic è un po insomma ora vi faccio vedere cosa succede vado a fare praticamente i passaggi sopra è leggermente più chiaro e leggermente verdognolo vado a lasciare sotto un po di grigio ok quindi sulle dita eccetera e lascio le luci sopra per evidenziare quello che mi interessa ok quindi ecco il tallone adesso magari siccome ho dei passaggi ancora più piccolini da seguire vado a prendere un pennello leggermente più piccolo quindi magari uno zero sempre artis opus ce l'abbiamo qui e ce lo prendiamo per usarlo che ci sembra meglio andare sul sicuro ovvero andare con mai il collo del pennello sporco sempre la punta ben fatta e andiamo a continuare a seguire seguiamo la miniatura vedete che vado praticamente a seguire la rotondità del polpaccio sotto seguo sempre le curve della miniatura tallone e avanti così ok date praticamente un po di luce alla miniatura e questo tipo di tecnica è molto interessante in contrasto con il dry brush per quando l'avete finita vi accorgerete che evidenzerà tantissimo la pelle rispetto appunto al dry brush che sembrerà super asciutto del della ruggine del metallo a questo punto ragazzi io mi concentro un attimo sul passaggio di luce diciamo della miniatura e ci vediamo quando ho finito di passare il nostro fantasy game hellbound flash ma anche il passaggio della pelle con la luce la prima luce diciamo quindi adesso due passaggi di colore sulla pelle che vedete sicuramente poco nello schermo perché non riesco a mettervelo a fuoco più vicino più di tanto e manca l'ombra e la luce bianca che uso io per il diciamo la mia scrivania è molto fredda e ripete abbastanza in questo caso la luce solare ma a occhi nudi sulla telecamera vi da questo effetto freddissimo che appiattisce un pochino ma vi assicuro che si vede molto da vicino al passaggio o mi sono procurato il caro bull crimson che è uno shade sempre per i wash rossastro ok perché perché ho dato una botta di rosso in centro alla maschera per vedere che cosa succede io sappiate che improvviso molto è quindi ho un'idea in testa di come voglio andare avanti ma non ho uno schema ben preciso da seguire mi piace lasciarmi guidare da quello che accade mano a mano che dipingo mi piace moltissimo questa cosa quindi fatto questo direi che visto che siamo ad aspettare che la pelle si asciughi vi faccio vedere qualche tecnica magari un peletto più avanzata ovvero i pigmenti possiamo usare un pigmento in questo caso della cappa che è fatto proprio per diciamo imitare la ruggine fate molta attenzione quando aprite il pigmento perché la polvere che cade pigmenta per l'appunto e vi assicuro che levarsela di torno è una rottura potete come pennello dry brush prendere anche un pennello un po più questo è un tre per esempio cinese pennello da tre euro non di più era lungo così l'ho tagliato a metà e mi ha dato questo risultato setoso e setoloso molto duro prendo il pigmento che ho scusate metto a fuoco sulla base e comincio a darlo nei recessi e lui mi va a imitare ancora di più la ruggine vedete poi col dito posso levare e questo mi fa veramente l'effettone finale della polvere ok questo è diciamo un modo per esagerare con la ruggine fate una soffiata da vicino bella potente in modo tale che se ne vada una parte di quello che non volete che resti lasciate vedete vedete cadere la polverina e poi dato un colpo di soldi di forte di soffio e lasciate che il resto venga da sé ok ecco qui che avete un effetto ruggine veramente interessante perché ora veramente siamo a dei livelli in cui siamo proprio polvere guardate come aumenta la rotondità della miniatura e come aumenta l'effetto della ruggine in questo caso vedete adesso vado a farlo negli ultimi punti e poi ritorno da voi la fine diciamo del passaggio di guardare come veniva fuori il passaggio del pigmento che vedete è diventato abbastanza prepotente ho messo anche del crimson da qualche parte in giro per la miniatura per dargli un primo effetto ombra su questa pelle blu astra verdastra che vi ha un effetto quasi sanguinolento no lascio asciugare e poi sopra ci passo abbastanza generosamente con il reikland flashade che è un altro wash della games workshop fatto apposta per la pelle normale diciamo in questo caso con il rosso e con l'effetto della pelle verdogna la dovrebbe darmi un effetto abbastanza surreale no che è quello che sto cercando io vi faccio vedere allora io vado sopra così o il rosso che mi sta dando le sue sfumature come se fosse un pre shade vado sopra tranquillo se in certi punti lo trovo ci vado tranquillamente sopra e o si sta ancora asciugando e si mescola o è già asciutto e quindi lo copro con un pre shade il pre shade è una tecnica di ombre che si fanno prima del passaggio finale di solito si fa con l'aerografo tipo per esempio quando voi fate una base della miniatura nera e poi radiale oppure dall'alto comunque date praticamente una mano di bianco in modo tale che ci siano già delle sfumature verso l'alto bianche e sotto scure poi colorate tutto di blu il blu diventerà più illuminato nelle parti dove c'era il bianco sotto e più scuro nelle parti dove c'era il nero sotto nel frattempo vedete io sto finendo di fare la diciamo l'ombra alla mia miniatura e già mi si sta delineando un corpo diciamo in questo caso un po' frankesterniano devo dire non me l'aspettavo neanche io ma mi piace devo dire che mi sta dando soddisfazione e penso che diventerà una buona miniatura una buona base per fare tutti gli iron golem in questo modo ok vedete passate in maniera serena e generosa con il rai clan perché è un wash abbastanza leggero rossastro che quindi va a rafforzare il rossastro del crimson che abbiamo messo sotto prima quindi date tranquilli mescolate non vi preoccupate adesso ovviamente la miniatura ha dei passaggi ancora da finire bisogna dargli dei colpi di wash ancora scuri con rai clan dopo di che andremo a dare i colpi di luce finali sulla pelle e vediamo che salterà fuori ok a dopo si sta ancora asciugando la pelle del nostro iron golem io voglio andare a non perdere tempo e quindi andare avanti con la miniatura quindi cosa faccio la pavimentazione allora in questo caso io non ho preparato la basetta come il mio solito fare cioè mettere una base completa di attack di solito uso l'atta che in questo caso non la con la più pregiata la zona che lì che costa un po di più prendo con l'attac da sbarco che trovate al lobby per esempio la mettete sulla base mettete tutta la basetta all'interno di un contenitore pieno di sabbia che abbia granelli di varia grandezza e la sabbia dopo pochissimo si solidifica diventa dura come la plastica a quel punto andata a colorarla in questo caso invece ho voluto usare per il tutorial procuratevi un texture citadel per esempio che è uno strumento che è da una parte a questa parte di plastica un po più larghetta dall'altra parte è un po più stretta per poter modellare meglio e ci servirà per andare a lavorare sulla miniatura e mettergli un colore tipo il tecnico sterling battle mile che è praticamente un texturizzante dal parola stessa dello strumento che stiamo usando che cosa fa il texturizzante guardate vi faccio vedere praticamente voi andate a stendere questo sul pavimento della miniatura e lo lavorate spingendolo rilasciandolo in questo modo qui ovviamente lui andrà a mettersi bene come lo guidate voi e fa l'effetto quando si secca sabbia che avevamo creato con l'atta che nell'altro caso già colorato di marrone scuro che è una base perfetta per poi col dry brush andare a schiarire e metterci magari un effetto più impolverato che vi farò vedere verso la fine della miniatura quando sarà asciutto finalmente il pavimento si mette un pochino in questo caso ma è merita perché effettivamente rispetto ai passaggi dell'attac che poi dovete colorare di marone scuro magari per poi andare a fare il chiaro avete un passaggio in meno no per questo è già colorato quindi spingete il boss con il vostro attrezzo dove volete la texture e continuate a metterne a piacimento in base a quello che volete voi in questo caso voglio fare un pavimento impolverato dopo e impolverato fangoso quindi diciamo che vederla vederla così sporca e lurida mi richiama veramente anche appunto a insistere anche sul pavimento sulla pavimentazione con gli stessi effetti no quindi vedete il piede tempo di tenerlo fuori ma non vado con paura vicino alla miniatura ci vado proprio come se lui si fosse sporcato camminandoci in mezzo finisco di texturizzare la nostra basetta e torno da voi sto mischiando nel frattempo che ho finito di dare la base texturizzante che vedete sembra ormai in questo momento effetto fango poi ovviamente aschugherà e diventerà secca se volete fare il fango ci mettete della resina finta tipo steam water o vari vari diciamo lucidanti che possono dare l'effetto del fango altrimenti potete prendere sempre da games workshop il tecnico del mad fatto apposta mi sono procurato un po di bronzo perché mentre guardavo texturizzando la basetta ho visto che qui mi piacerebbe molto dagli questo effetto bronzo e allora faccio il dry brush e vediamo che salta fuori ok quindi facciamo un effetto dry brush sulla miniatura con il bronzo eccolo qua andiamo generosi perché tanto poi rimarrà color bronzo io do un pochino anche qua sopra così mi fa di bronzo anche il loro simbolo dei aereo golem e dietro ovviamente perché sotto non dimenticate le parti nascoste di miniature perché una delle parti più divertenti credo per la gente che guarda le vostre miniature e andare a girare la miniatura e andare a vedere tutti i particolari a cui voi avete certamente pensato e mi raccomando non tralasciateli non fate come le scenografie dei film che da una parte dipinto e dove non si vede non è ripinto ok vado praticamente a finire il bronzo do due colpi d'oro al bronzo diciamo con una cosa del genere uno scale color citrine alchemy il siti in alchemy è molto liquido quindi bisogna stare attenti sentire che la pallina è partita dopo un po perché era talmente separato il liquido con praticamente la il pigmentante con elegante che bisogna scuotere un pochino per avere l'effetto desiderato io comunque devo solo dry brush quindi posso anche metterlo così come sopra praticamente al foglio e adesso vediamo un pochino cosa succede con il dry brush sul bronzo faccio vedere il citrine ve lo faccio vedere perché perché un colore molto chiaro che va veramente a illuminarmi il bronzo allora quando vi nomino colori che non avete non vi spaventate o correte immediatamente certo se andate da saem d'arcadia mi fa piacere perché aiutate il mio amico e negozio a crescere ma al di là di questo non è che dovete avere tutti i colori che vedete in un tutorial tentate di capire la tecnica e il senso del tutorial il senso della tecnica dopodiché vedete che adesso si vede di più l'oro no tentate poi di usare quello che avete trovate un oro scuro un bronzo tipo e comprate un oro più chiaro in modo tale che potete fare subito con due passaggi quello che normalmente si farebbe con tre o quattro ora io vado a prendermi un altro tecnico della citadel che si chiama nilac nilac scusate oxide che è l'ossido praticamente l'ossido mi serve perché ho appena messo il bronzo e voglio che si veda questo effetto ossidato del bronzo per poterlo fare mi attivo con un lemia medium che è un altro tecnico della gv il lemia medium mi serve a non tirare ma diluire il colore ok senza appunto tirarla se tirarlo significa con l'acqua portare via abbastanza colore questo fa sì che il colore si è come se diminuisse la pigmentazione con il lemia ovviamente voi prenderete prima la parte trasparente e poi la parte dell'ossido prendete le tipo due porzioni ok e andate praticamente a metterci l'ossido dentro in questo modo avete diluito il colore lavate col pennello prendetevi il vostro ossido mescolatelo con il lemia eccolo qua io sto facendo praticamente una lavatura di ossido che possono tranquillamente passare soprattutto il modello e quando avrà finito vedrete che effetto fa lascerà praticamente l'ossido nei recessi facendo quell'effetto tipico dell'ossido intorno al bronzo e lasciando il bronzo fuori ok ecco qui che lo vado a fare anche nel loro simbolo quindi si capisce che pure quello era bronzo è uguale e vado a prendere la stessa cosa a farla dietro che tra le altre si stava già talmente liquido diluito che stava andando da solo lasciamo che si asciughi e vediamo che effetto fa l'ossido mentre ancora sta asciugando anche l'ossido andiamo a fare i colpi di luce per la pelle con nel bound flash che è vi ricordo un verdognolo grigio verdognolo ok allora per fare questo usate diversa acqua perché perché in questo caso tirando il colore vedete andrete a fare dei colpi di luce su una pelle che è parecchio texturizzata adesso dall'ombra e non andrete a esagerare perché poi asciugandosi andrà a diminuire vedete perché sennò me la fa tantissimo allora io andando sopra in questo modo qua quando ho dato praticamente i colpi di luce posso anche fare così e levarla pian pianino vado presente a sporcare di più chiaro il punto della pelle che voglio in luce e state tranquilli che l'effetto si mescolerà tutto il resto ok quindi avrete la luce più tutti quanti recessi rossastri e marroncini che abbiamo fatto all'inizio con il discorso del reichland flash e del coro bond che è il rosso e ecco qua cosa viene fuori guardate un pochino spingete con la punta del pennello la parte del colore che volete più in luce e lasciateli il colore quando andrà asciugarsi in trasparenza si vedrà un po l'effetto della luce diciamo maggiore in quei punti dove avete spinto il colore ma sotto tornerà l'ombra vedete qua per esempio ero già passato e già sta tornando l'ombra perché ho talmente anacquato il colore che non ho paura di andare a coprire quello che c'è sotto vedete praticamente si vedono anche i piedi del pennello guardate quando vado a fare la lo spin per fare la punta guardate qua per esempio ecco qua vedete lascio dei colpi di luce sulla parte alta dove voglio che si veda la luce dopo e avanti fino a quando non siete soddisfatti del risultato diciamo che già una miniatura così è di più che da e diciamo battle game e basta è già quasi da la gv la chiama da parata no è già una miniatura da parata ma visto che la banda di warcry è fatta da dieci miniature ci possiamo anche perdere un po di tempo penso che non si sia niente di male tra le altre a me piace sinceramente avere miniature comunque belle che quando me le vado a vedere mi danno soddisfazione e un'altra cosa importante secondo me che di una soddisfazione a voi mi raccomando non preoccupatevi delle critiche eccetera anzi le critiche sono sempre costruttive fatele anche a me tranquillamente condividete le vostre tecniche anche con me e ne sono più che felice perché non si finisce mai di imparare e c'è gente veramente in gamba creativa che riesce a creare effetti a dare effetti alla miniatura che nemmeno un proprio inter si immaginava potessero esserci a volte quindi tentate di esagerare con l'azzardo provate tranquillamente non c'è quasi mai un errore irrimediabile perché si può passare sopra quindi stare tranquilli al massimo ci starete un pochino di più ecco tutto lì però insomma andate via tranquilli ok finisco di dare queste luci come mi mi sento che siano per me belle sentimenti tutto quello detto finora non vale niente e ci vediamo alla fine anche di questo passaggio dai ragazzi siamo arrivati praticamente alla fine della miniatura direi che già sta dando un effetto più che egregio poi dopo faremo uno sorile e vedremo come gira magari con una scenografia alle spalle nel frattempo faccio un dry brush finale sulla base che si è asciugata abbastanza per poter iniziare a dry brushare e parto con tre colori anche qui a usarmi painter non vi preoccupate usate pure games workshop o quello che avete e sappiate che l'importante è che dal marrone scuro bisogna arrivare a un diciamo io arrivo addirittura al bon quindi allo scheleton bon che quindi è quasi un osso andate abbastanza gentili fate in modo che la sfumatura si veda ok mi raccomando occhio perché per esempio ora in questo momento io ce l'ho ancora un po fresca quindi abbonderò il colore sul pennello in modo tale che non debba premere troppo col pennello e possa lasciare più pigmento altrimenti aspettate che si asciughi definitivamente e siete tranquilli ok in questo modo vedete io do varie sfumature di marrone alla base e faccio in modo che la basetta stacchi dalla miniatura la basetta è una parte molto importante nella miniatura almeno per me perché è la cornice del quadro quindi nei momenti in cui voi andate a chiudere una miniatura una parte molto importante è come deciderete di farlo e secondo me fa veramente tanto avere una basetta che renda comunque almeno quanto la miniatura ok ragazzi finisco di fare questi passaggi di tre colori vediamo come viene fuori la basetta se ci dà soddisfazione direi che possiamo praticamente chiudere la miniatura a più tardi ok ragazzi adesso la basetta si sta asciugando quindi siamo praticamente in direttura d'arrivo ho dato dei colpi di con i tre colori alla fine ho messo come vedete qua un po liquido il agrax air shade gloss che quindi lascerà lucido invece che opaco le zone in cui l'ho dato abbondante per simulare il fango dopodiché ho dato un pochino se guardate di pigmento invece che rossastro come quello per la ruggine color polvere quindi un pigmento diciamo lo chiamano middle east soil che è ovviamente la polvere del middle del middle est del medio oriente e l'ho fatto in questo modo ho sporcato anche la parte sopra in modo tale che la miniatura sembra veramente vissuta e tra la polvere il fango aspettiamo che si assurdi definitivamente e tiriamo le sonde bene ragazzi abbiamo visto come dipingere la tecnica della ruggine come partire a dipingere una miniatura dalla base nera vi lascio alla prossima puntata di neocastro miniatursvlog tv